Le poste, senza consultare gli interessati, hanno rimandato ai comuni la lettera dove annunciano la chiusura degli uffici postali a partire dal 7 settembre. Su questo domani mattina c'è una riunione dei comuni a cui parteciperemo anche noi e insieme vediamo quali iniziative mettere in piedi in termini di protesta da fare in tutti i territori, ma anche di mandare avanti quell'iniziativa che è stata fatta con gli avvocati e con l'associazione dei comuni per far intervenire la Corte Costituzionale perché non c'è il pieno rispetto delle regole sul servizio pubblico di prossimità che le poste devono garantire. Quindi ancora una volta proveremo a fare la battaglia per far cambiare idea. Sarà dura ma dobbiamo provarci. Quali le motivazioni adotte adesso se ci sono state? Le stesse dell'altra volta, chiudono per razionalizzare e spendono meno, in più c'è anche l'aggiunta che intendono consegnare la posta un giorno sì e l'altro no. Su questo si può ragionare, l'importante è che i tempi di invio siano coerenti con la spedizione perché se poi stanno fermi nelle poste prima di essere recapitate a casa il problema non è un giorno sì e un giorno no ma quanto stanno fermi prima di arrivare. Grazie.